eccomi qua a fare il filmato alle anatre che gli ho portato le bricioline di pane e le stanno rincorrendo ho l'aiutante che gli tira il pane ma guarda bellissime che amori che sono il germano maschio è quello che ha al collo un collarino bianco e la femmina invece è tutta brunastra quando il maschio corteggia eccole arrivare anche da lontano meno male mi sono portata mi sono portata un chilo di pane il maschio quando corteggia la femmina ecco quando arriva un'altra mamma mia bellissima che richiamo che ho fatto che richiamo il maschio quando corteggia la femmina fa delle danze sull'acqua e mette un fischio e un brontolio le femmine depongono dalle 8 alle 12 uova una volta all'anno le anatre germanate si trovano anche in posti acquitrinosi stagni ce ne erano pochissime quando sono arrivata guarda guarda con due brisciole di pane cos'è successo troppo belle con le femmine guarda 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 tre femmine guardate le femmine sono tutte brunastre proprio ma c'è più maschio guarda quelli piccolini oddio c'è due pulcini di germano bellini ma sono due fratellini e ancora si sono divisi e va dalla mamma dove va viva a a a a Grazie a tutti. Ecco due femmine che stanno da sole tranquille e qua invece sono tutti in gruppo. Ecco lì, ma guarda come sono sereni e felici, mamma mia! Ecco la femmina che corde, corde, fai i suoi girini, dove vanno? Vanno dall'altra parte. Ecco, eccole, eccole due femmine. Ecco qui stiamo chiacchierando. Si stanno mettendo d'accordo perché sono poche le femmine che ci stanno. Ecco. 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 Bellini, ora sono cinque piccolini. Ma sono bellini, sono cinque, sette? Ah, tutti con la mamma, ma guarda bellini quei. Sono tutti con la mamma, guarda bellini. Ecco. 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 tutti con la mamma stupendi è un posto incantevole Torre del Lago e anche Giacomo Puccini se ne innamorò e nel 1898 decise di risiedere qua già era un posto che ci soggiornava ma lo scelse per la sua tranquillità è proprio vero è un posto tranquillo e favoloso è veramente ecco però piccolini così non riesco a distinguere i maschi e le femmine piccini piccini così non sai predire ecco allora quello è il babbo ha beccato il figlioletto ecco 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 Guarda! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.